ciao sono gialluca bocci sono qui al brain camp 2018 oggi ho un po di emozione che dovrò parlare di fronte a ben 70 persone ma nel frattempo mi diverto un po provando lei si la z7 di nikon di cui ho parlato in maniera un po critica rimando qui sopra al mio video di scheda oggi finalmente io ho messo le mani addosso letteralmente ma prima di andare a vedere più da vicino vi racconto un questa giornata qui ai brain camp 2018 ciao ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' stato davvero divertente e appassionante anche se devo chiedere scusa a Stefano Massoli perché gli ho rotto il radiomicrofono. Perdono, ma insomma mi sa che voi siete curiosi di vedere più da vicino questa Z7. Andiamo. Eccola qui finalmente nelle mie mani. E a proposito di mani si impugna effettivamente bene. Pur avendo le mani belle grandi il mignolo sta al limite ma c'è. Fatto molto bene l'appoggio per il pollice, poi carino che quello che è l'appoggio per il pollice in realtà è lo slot per la famosissima XQD. Quindi i XQD che insomma continuo a ritenere scomodo. Infatti per poter chiedere e provarla ho avuto subito a chiedere il lettore perché il portatile con cui lavoro ha ovviamente lo slot interrato solo per l'SD. Ma tant'è. Scheda velocissima. Ho fatto sia delle fotografie sia delle riprese video. Davvero fantastico. Dicevo, ergonomia ottima. Le due ghiere, una portata indice, una portata di pollice sono molto comode. Sopra abbiamo il display OLED. Un po' poco utile che vedete si accende. Bellissimo. Ma solo appunto quando la macchina è accesa. Quindi l'utilità Mari di andare a controllare l'impostazione di scatto quando anche la macchina è spenta, Mari risparmiando le batterie, questo non c'è perché. Il display è spento. Vi faccio vedere da quest'altro lato le tante connessioni presenti. Abbiamo appunto microfono e cuffie. Quindi ingresso microfono e uscite cuffie. La parte video è davvero ben curata. Qua abbiamo la parte per il telecomando, per l'HDMI e USB tipo C anche per la ricarica. Ovviamente con il nuovo tipo di batterie. Batterie che trova spazio appunto qui sotto. Ve la faccio vedere. Questa è quella nuova, la NL15B che appunto può essere ricaricata anche tramite USB, cosa che ritengo sempre comodissima. specialmente in viaggio un caricabatterie in meno da portarci dietro. Dietro c'è il display purtroppo orientabile in maniera limitata. Quindi per chi si fa i video da solo come io non è proprio eccezionale. Comunque di tipo touch. Touch davvero ben implementato. Mirino davvero splendido. Ha soltanto un po' di sfarfallio in situazioni di forte contrasto. Però comunque non fa rimpiange minimamente a parte di situazione limite un mirino di tipo reflex. Visto che ci siamo andiamo a farvi vedere il sensore. Vado a sbloccare l'ottica. Eccolo qui. Questo bel padellone dentro questa baionetta davvero molto grande e guardate il tiraggio è quasi inesistente. Cioè sotto la baionetta il sensore è subito lì sotto. Se ho sbaglio è già impostata la raffica che vi faccio vedere. E questa è una raffica da 9 fotogrammi per secondo. Allora il sensore da 46 megapixel è derivato da quello della D850. Ma è derivato perché comunque è integrato. Il rilevamento a messa a fuoco è un rilevamento di fase con ben 493 punti. Ve lo faccio vedere dietro. C'è il joystick a portata di pollice. Vedete il puntino rosso? Possiamo portarlo davvero tutto in alto, tutto in basso, tutto a destra e a sinistra. Vi dicevo 493 punti che vanno a coprire per l'appunto il 90% di rara inquadrata. E sono punti sensibili fino a meno 4 e V quindi davvero notevole perché stiamo utilizzando ottica un'apertura almeno f2. Quindi con l'1.8s è davvero fantastico. Abbiamo detto in video ha una bella marcia. Allora lavora in 4k 30p senza crop. Quindi il sensore utilizza tutto. Però quando utilizza tutto il sensore in realtà fa il line skip. Che vuol dire in pratica alcune righe di pixel vengono saltate. Questo comporta un po' di problemi di moiré e anche qualche problemi con rolling shutter. Ma possiamo lavorare in super 35 mm. Quando andiamo invece a lavorare in full hd abbiamo i 120 frame per secondo. Infatti abbiamo anche di stato motion niente male. Sensore stabilizzato su 5 assi. Quindi insomma una macchina che si presenta in modo davvero interessante. Ma andiamo un po' a vedere con calma sul mio pc quelli che sono i risultati. Bene, rieccoci qui nel mio studio pronti per vedere insomma cosa ho combinato tenendo in mano questa Nikon Z7. Iniziamo subito da una foto del castello che si trova davanti ai Brain Studios. Brain Studios sono in una location davvero stupenda. Una struttura perfetta appunto per eventi come questo. Davanti c'è questo castello che colpisce subito l'occhio. E dove possiamo subito notare che insomma il sensore è derivato dalla Nikon D850 e si vede. Non ci sono sorprese. C'è il dettaglio, c'è la nitidezza, c'è il contrasto. Insomma abbiamo tutto quello che serve e se andiamo a grandire insomma appunto il dettaglio c'è e davvero. Ma passiamo a un ritratto fatto la giornata di sabato che era una giornata purtroppo con tantissima pioggia. Però classico ritratto in esterni con Anne-Marie Vasta che era nipote di Davide Vasta. E qui si nota innanzitutto che andando a grandire sui occhi, qui insomma dettaglio, resa dell'incarnato, va tutto davvero molto molto bene e si apprezza anche la resa di questo 3518 che si comporta molto bene. Nitido anche tutta apertura, qui siamo appunto a F1.8, molto morbida la resa dell'ambiente circostante. Andando in condizioni ancora peggiori, qui siamo a 8000 ISO, questo bel faccione sorridente di Mauro Barbacci, uno dei nuovi relatori appunto del BrainCamp 2018 e anche qui la resa a 8000 ISO a tutta apertura comunque davvero ottima. Andando a vedere la resa alle varie sensibilità ISO, c'è a dire che la sensibilità nativa è 64 che possiamo abbassarla ulteriormente a 32 ISO. Comunque le immagini sono sempre belle pulite, 64 ISO, 100 ISO, 200 ISO, 400 ISO, 800 ISO, 1600 ISO, 3200 ISO. A 3200 inizia a comparire, cioè si vede che c'è del rumore ma sotto forma di una grana comunque molto molto piacevole, va benissimo anche per la stampa. Possiamo salire ancora a 64, 12.800 ISO, a 12.800 ISO la riduzione del rumore incomincia ad essere percepibile, qualche piccolo granello di polvere inizia a scomparire. Poi possiamo ancora salire a 25.600 ISO, a 51.200 ISO fino ad arrivare ai 102.400 ISO. A questa sensibilità che comunque siamo già, abbiamo alzato di due livelli quello che sarebbe il livello massimo che sarebbe i 25.600 ISO, comunque è un'immagine ancora utilizzabile. Passando a guardare un po' di video, questo qui è un movimento fatto a mano libera appunto inquadrando il castello di cui dicevamo in apertura, si nota che la stabilizzazione aiuta a livello di sensore ma non fa miracoli. Quindi per fare comunque delle buone riprese, specialmente se camminiamo con male il saltellato di chi non è abituato a muoversi, è bene insomma avere un gimbal, quindi un aiuto esterno è sempre prezioso. Si apprezza anche lo slow motion, qui c'era appunto un po' di gocce d'acqua su questa rete, lo scossa e si vede appunto tutto il movimento delle gocce che vanno a cadere. Quindi risultati sicuramente promossi ma parliamone bene in dettaglio con le pacelline. Mirrorless full frame di Nikon, eh sì, insomma c'era da metterci le mani sopra per capire la bontà del progetto. Certo, sono onesto, mi aspettavo comunque una macchina che facesse il suo lavoro in maniera eccellente. La Nikon non è nata ieri, fa ottime macchine forafiche da anni, non avrebbe avuto il minimo problema a fare un'ottima mirrorless. In fondo tra una reflex e la mirrorless la differenza è questo specchio sì, questo specchio no e tutto il contorno, quindi il sistema di messa a fuoco e il pentaprisma sostituito da un mirino elettronico. Ma tolte queste differenze il resto c'è. Iniziamo infatti dal mi piace, da un'ottima economia. Si impugna molto bene, i comandi sono disposti nel modo giusto, il mirino appunto è molto molto piacevole, ben sporgente quindi nessun problema per chi porta gli occhiali. E' un bel nasone come il mio, quindi davvero un piacere di utilizzo che non fa rimpiangere minimamente il fatto di avere una reflex. Secondo punto, la risposta, o meglio la prontezza della risposta. Esplosimetro, bilanciamento al bianco e soprattutto l'autofocus ben gestibile con il joystick che possiamo portare praticamente sul 90% dell'area inquadrata c'è, c'è sempre. L'ho provato in condizione di scarsa illuminazione, avete visto prima che stavo scattando a 8000 ISO, va senza minimo problema, pronto e veloce. Quindi ci siamo davvero. Il fatto che ci sia la stabilizzazione sui 5 assi, non che ci debba essere per forza, abbiamo vissuto con reflex senza stabilizzazione a livello di sensore e riusciamo a portare a casa ottimi lavori in qualsiasi genere e situazione fotografica, però il fatto di averlo è un più che fa piacere trovare. Ricordatevi che aiuta nel video, ma comunque serve avere un gimbal o altri sistemi di stabilizzazione banali, tipo un cavalletto. Ultima cosa da dire, ovvio, la qualità immagini, anche quella, incredibilmente, sensore derivato di 850, abbiamo un livello di qualità identico. Insomma, il fatto male di aver inserito l'evoluzione, un sensore ibrido, non ha portato danni, siamo praticamente su quei livelli. Invece, cos'è che non mi piace, confermo quello che ho detto nella mia reazione quando ho visto la presentazione da parte di Nikon. C'è questa baionetta, l'avete vista, è davvero bello vedere come l'innesto e il sensore siano così vicini e che comunque sia davvero una baionetta molto ampia. Ok, però le ottiche che possono sfruttare appieno questa tecnologia, definita la stessa Nikon, Power of Light, dobbiamo aspettare il 2019, anzi ovviamente il 2020, per avere ottiche molto luminose in cui appunto la luce, questo Power of Light, vada davvero a sfruttare questa nuova baionetta appena progettata. La seconda cosa che non mi piace è questa scelta di mettere un solo slot, che potrebbe anche andare, perché in fondo io continuo a lavorare dopo 10 anni con la D700 con un solo slot e non ho perso ancora neanche una foto, ma la scelta di poi non mettere l'Sd, perché l'Sd dicono che sia più limitata, però in realtà l'Sd tipo V60 arriva fino a 400 Mbps, quindi non è vero che è così limitata e non è neanche vero che si rompa così spesso. La Nikon ha scelto l'XQD, una scelta rispettabilissima che ogni azienda sceglie il tipo di tecnologia da utilizzare, per aver messo un solo slot, quindi non aver lasciato come sulla D850, la possibilità di scegliere di avere XQD, SD o tutte e due per il backup, quella per un modello specialmente come la Z7, che sarebbe il top di gamma delle mirrorless full frame, è davvero un po' tanto forzata. Bene, vi ringrazio per avermi seguito in questo lungo video, voglio ringraziare alla fine Davide Vasta che mi ha ospitato appunto nel Brain Camp 2018, voglio anche ringraziare l'Olympus, di cui vi rimando alla prova qui sopra, perché nel seminario la parte light painting l'ho fatta con l'Olympus, nonostante lo sponsor fosse Nikon. Ma in fondo ricordatevi, ragazzi, le fotocamere sono strumenti, quindi potrete scegliere quello che volete, ma tutte vi permetteranno di portare ottimi risultati, se sapete utilizzare la testa per sfruttare le loro potenzialità. E quindi da Gianluca, ciao e al prossimo video!